Benvenuti alla nuova puntata di lezioni di stile, Irina Tirdea per voi e oggi con noi un invitato speciale, il fotomodello Giovanni. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti, buongiorno Irina. Benvenuto nella nostra transmissione di lezioni di stile. Oggi parliamo dello maschio e Giovanni ci ha fatto la cortesia di fare da testimonial per capire quanto è importante la cura della bellezza e non solo, anche per il maschio, giusto Giovanni? Ci dici, quanto è di importante la cura della bellezza del corpo, del viso, il maschio è sicuro al viso? Secondo me è un concetto molto importante, anche perché l'uomo pur usando una crema o andare a sostenarsi i capelli, la barba, non è meno uomo, anzi lo rende più uomo perché si fa vedere curato. Quindi non necessariamente devi essere un fotomodello come vedrete oggi il servizio con Giovanni, ma ti rende anche più charmante. E siccome le origini di Giovanni, spero di non sbagliare, sono napoletane, giusto, anzi costa di amalfitane, amalfitane, oggi abbiamo pensato di portare con noi un ricordo anche del grande Totò. Non per niente, ma perché lui insegnava proprio questo, le buone maniere, le eleganze, lo charm, anche se Totò non era una bellezza in assoluto, però la sua simpatia, la sua classe ci ha insegnato per anni così come dobbiamo comportarci, come dobbiamo essere con charm e con lo stile, anzi di trovare il nostro stile. Quindi state con noi perché oggi vi insegneremo come si deve curare lo maschio. Giustamente parleremo della bellezza del viso, del corpo, quali sono gli esercizi giusti, come ci dobbiamo vestire, giusto? Per ogni occasione. Per ogni occasione, bravissimo Giovanni. E siccome arriva la settimana della moda non possiamo restare impreparati, anche noi maschi, non solo le donne. Quindi state con noi. A breve, ciao.